Chicago sembra essere diventata l'occhio del ciclone che sta squassando gli Stati Uniti, una sorta di scontro razziale con le forze dell'ordine accusati di usare eccessiva violenza contro la minoranza afroamericana. La situazione non migliorerà, certo, dopo il rilascio su cauzione di Jason Van Dyck, il poliziotto incriminato per la morte del 17enne afroamericano, ucciso lo scorso anno con 16 colpi di pistola. L'uomo si è dichiarato non colpevole. L'avvocato della difesa giustifica questa richiesta col fatto che il suo assistito non si considera un assassino a sangue freddo e non vuole dichiararsi colpevole. La comunità nera chiede un processo ripreso dalle telecamere. Le proteste si espandono in molte città dopo che a Cleveland il gran jury ha deciso di non rinviare a giudizio il poliziotto che l'anno scorso sparò e uccise un ragazzino di 12 anni in possesso di una pistola giocattolo. E sempre a Chicago molti chiedono le dimissioni del sindaco Emmanuel Rahm, accusato dai detrattori di aver fatto di tutto per insabbiare le indagini. Un appena un giu, un suo un appena un giudice Un appena un giudice Try e Shoulders Try e che E un'appena un lavoro Grazie a tutti.